La scadenza dell'11 maggio è passata da quattro giorni, ma al contrario di quanto annunciato 19 mesi fa da ANAS, i lavori nella Galleria di Cernobbio sono tutt'altro che terminati. Il cantiere va avanti, così come le chiusure notturne del tunnel, e in paesi ora ci si chiede quanto ancora andranno avanti i disagi. Durante l'ultimo incontro in prefettura circa un mese fa, spiega Paolo Furgoni, sindaco di Cernobbio, i dirigenti ANAS mi hanno detto che la conclusione sarebbe slittata di qualche giorno a fine maggio, a causa di alcune difficoltà legate alla consistenza delle rocce e una differente calendarizzazione dei lavori per aumentare le aperture notturne come richiesto dal territorio. Ora però, aggiunge il primo cittadino cernobbiese, chiederò di rifare il punto della situazione per capire concretamente quando potrà essere riaperta definitivamente la galleria. La sensazione è che difficilmente l'opera potrà essere conclusa entro fine maggio. La stagione turistica però sta per entrare nel vivo e il comune di Cernobbio teme nuovi disagi. La speranza è che almeno il tunnel venga riaperto a giugno, spiega Furgoni. Al tempo stesso potrebbero continuare i lavori nella galleria di servizio, dalla quale, aggiunge, usciranno i condotti per portare aria pulita all'interno del tunnel, consentendo un'adeguata ventilazione e la fuoriuscita dei fumi. Mi rendo conto, continua il sindaco, che parliamo di opere importanti e non prive di imprevisti. Ho sempre chiesto ad Anas di essere aggiornato sulla tabella di marcia, in modo da poter gestire le conseguenze. Ora però conclude il mio aspetto che il cantiere sia B verso la conclusione e che vengano rispettate il più possibile le previsioni.